salve a tutti e benvenuti a pillole di carta special edition cremona fiera 2021 vediamo insieme qualche chicosa novità per voi da comprare come sempre nei negozi di musica italiana eccoci qua allora navigando navigando ecco ad esempio mi cade l'occhio su Billie Eilish happier than ever Billie Eilish è la famosissima cantautrice americana giovanissima a soli vent'anni diventata famosissima per suonare oltre che la chitarra l'Ukulele è uno strumento che potremmo definire di questo nuovo secolo il suo ultimo album come vedete sempre molto curata come tutti i prodotti che fuoriescono dalle officine sapientissime di Hal Leonard è un testo molto interessante completo ecco guardate dietro c'è anche già previsto l'easy piano proprio per facilitare la conoscenza di questa giovane artista anche ai meno ferrati sui gli 88 tasti bianchi e neri del pianoforte pillola velocissima Billie Eilish per Hal Leonard piano voce chitarra o easy piano che fai la chitarra o l'easy piano Grazie a tutti.